Ancora una volta porta a porta a singhiozzo. Nei giorni scorsi si sono infatti registrati disagi nell'aretino per il mancato ritiro della spazzatura ed è proprio a seguito di questi disservizi e delle decine e decine di segnalazioni di cittadini che l'assessore Marco Sacchetti ha voluto fare il punto della situazione puntando il dito contro il gestore di servizio di gene urbana a Saitoscana che avrebbe essernalizzato il servizio di raccolta rifiuti ed una cooperativa di tipo B. Secondo l'amministrazione a questo punto potrebbe palesarsi anche una violazione delle norme contrattuali. Dal nostro punto di vista sì anche dal punto di vista del lato che non a caso è il soggetto che regola il contratto e ha già mandato delle emissive al gestore cioè sull'utilizzo dei subaffidamenti cioè sull'esternalizzazione di questi servizi che secondo il contratto possono essere fatte solo su attività marginali e non sulle attività di raccolta né tanto meno di spazzamento come invece è stato fatto. Questa è una problematica che riguarda ovviamente poi la qualità di servizio perché spesso e volentieri gli operatori non conoscano il territorio come è successo quest'estate nel Cortonese. Può riguardare se non sono preparati anche problemi di sicurezza sul lavoro per cui è opportuno che questo venga fatto in maniera più opportuna e poi ovviamente l'impressione è che si vadano a cercare delle marginalità, l'azienda vada a cercare delle marginalità sulle spalle dei lavoratori e anche dei cittadini che poi pagano. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è dico migliorata in quanto oggi è giorno di raccolta indifferenziato, l'attività è in corso, vediamo stasera i risultati. Naturalmente non siamo tranquilli visti i precedenti. E sempre in tema di disservizi l'amministrazione comunale ha già effettuato contestazioni su servizi non resi o resi in maniera difforme che complessivamente ammontano a circa 600 mila euro che dopo una verifica formale da parte di Ato potrebbero essere stornati da corrispettivi futuri. I cittadini di Arezzo versano 18 milioni di cui sono 10 milioni di servizi, 6 milioni di conferimento agli impianti e il resto sono spese di gestione ma insomma sono sempre 10 milioni per il servizio, una cifra importante che è opportuno chiaramente che il gestore operi nella maniera più limpida e più trasparente possibile.